Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Lutto nel mondo del giornalismo, nel 1960 ha debuttato in Rai, un grande professionista che ha fatto la storia del giornalismo e dello spirito. Come abbiamo appreso durante la notte, è morto all'età di 84 anni Gianni Mina. L'annuncio è arrivato tramite un post su Facebook, Gianni Mina ci ha lasciato dopo una breve malattia cardiaca. Non è stato mai lasciato solo, ed è stato circondato dall'amore della sua famiglia e dei suoi amici più cari. Un ringraziamento speciale va al professore Fioranelli e allo staff della Clinica Villa del Rosario che ci hanno dato la libertà di dirgli addio con serenità. Nato a Torino il 17 maggio 1938, poco più che ventenne, nel 1959, iniziò la sua carriera giornalistica a Tutto Sport di cui fu direttore dal 1996 al 1998. L'anno successivo è il debutto in Rai per la collaborazione alla realizzazione dei servizi sportivi sui giochi olimpici di Roma 1960. Nella sua sterminata esperienza da cronista ha seguito otto mondiali di calcio e sette olimpiadi, oltre a decine di campionati mondiali di pugilato, fra cui quelli storici dell'epoca di Muhammad Ali.